Parcheggiare l'auto in città, soprattutto per chi è in dolce attesa, diventa molto più semplice, perché a partire dal 29 novembre il Comune di Napoli istituisce in via sperimentale apposite strisce rosa riservate alle donne incinte che si recano ad effettuare le periodiche visite di controllo. L'iniziativa è promossa dagli assessorati alle pari opportunità e alla mobilità in collaborazione con l'ASL Napoli 1 e l'Ordine dei Medici per diffondere la cultura del rispetto delle donne in gravidanza e tutelarne la salute. Riteniamo che la gravidanza è un periodo della vita della donna certamente da salvaguardare e da facilitare in qualche modo e cerchiamo di mandare un messaggio in controtendenza rispetto a una certa demonizzazione che è stata fatta di questo periodo della vita delle donne e quindi cerchiamo di invertire la rotta nell'immaginario collettivo, cerchiamo quindi di inviare segnali di tutela e di rispetto. I 63 parcheggi dedicati, identificabili da una P di colore rosa, sono stati predisposti nelle aree di sosta a pagamento di ospedali, distretti sanitari e consultori e sono riservati alle mamme in attesa residenti in città che abbiano fatto richiesta del contrassegno identificativo temporaneo presso l'ufficio centro donna e servizio contrasto alle povertà del comune. Il progetto, che potrebbe successivamente estendersi anche ai parcheggi di grandi supermercati e centri commerciali, si basa per lo più sul senso civico dei cittadini, poiché questo tipo di sosta riservata attualmente non è prevista dal codice della strada. Sarà mia cura chiedere alla Commissione parlamentaria, alle Commissioni parlamentari, che venga cambiato in questo senso il codice della strada. In attesa che cambi il codice della strada, peraltro è una richiesta che hanno fatto altre città, non solo Napoli, quindi si tratta di un gesto di cortesia e chiedo quindi ai cittadini e alle cittadine che vedranno il parcheggio rosa di lasciarlo assolutamente libero, proprio al fine di consentire l'utilizzo appropriato di questa opportunità che l'amministrazione comunale mette al servizio delle donne in gravidanza.